guarda sto senza vita, come se gira, se rigira magari te zombo tendine, sto ritengo porco giu tu R1, ma che me significa l'introduzione di questo R1 per far sta sti bimbi sto ritengo appare la R1 porcaccio ok, andiamo da DB facciamo un applauso ad ADB che che ci permette di fare la prima SBC costosetta dell'anno ci ha buttato dentro anche questa tizia, vediamo come si presenta, Bruno di Maraes si presenti è bella molto bella l'animazione eccolo scarpa della marca giusta anche del colore giusto aggiungerei fa tutto a posto Timo Verna molto fluido nella corsa Timo Verna la palla per DAB che dice spuustolo sto portiere la butta dentro attenzione il lancio è partuto Ansufati la mette giù ma che cazzo fai Ansufati madonna ma quanto corre sto Ansufati ma io corre veramente assai questo va sbloccato sto Ansufati pochi cazzo Timo Verna gran finalizzatore bella catosa questa di Timo Verna bravo grosso intervento bravo è molto solido chi lo ha al verde allora diciamo che è molto pesante questo Gimaraes palla al piede non è uno con cui si possono fare delle ripartenze dai Ansu ma guarda quanto corre eh sì è forte proprio Ansufati nel dritto dritto guardate qua ma poi sembra più alto di quello che dice la carta sta Ansufati no Timo Verna ma che fai tanto Bonucci con un intervento mica male Bruno Gimaraes con la scivolata automatica auto interception ma guarda quanto corre questo Timo Verna mamma perché sbaglia dai sì sì tentativo numero 10 è la piazza dice sai che c'è Bruno altra gran bella intercettazione automatica allora diciamo che difensivamente non è per niente male ancora lui Timo Verna madonna ma quando si si tira forte sto Werner non la butta dentro manco con le mani cioè Verna eh sì sì sembra bello sgusciante con l'R1 sì avevate ragione R1 guarda quanto è veloce oh che roba molto solido qui Gimaraes ancora Bruno come vedete palla al piede è molto pesante Bruno Gimaraes Gimaraes dice sì ci penso io ho 70 di rigori ma sono estremamente confident pigliato staccatoso ecco mai una gioia con l'R1 però è estremamente fluido sto Werner Werner oh finalmente un bel tiro e allora ritorna sul dischetto Gimaraes che dice ok prima è stata un po' di emozione ma adesso non ti preoccuparci penso io e che c***o è fatta parare a due rigori e svegliati Timo Verna la butta dentro no ma questo è troppo fluido è troppo veloce questo Ansufati signori è troppo fast che bel giocatore Ansufati guardate che fluidità ma poi sembra un metro e ottantacinque questo Ansufati ma che c***o ma io nel dritto per dritto vola si sprint busta di Abigol Razzetto Valverde Bruno i numeri si gira si rigira l'imbucata di Valverde per Timo Verna che la stoppa veramente bene eh la butta dentro ha avuto giusto quel momento di sbandamento all'inizio però se Gimaraes dice sapete che c'è Mott tira Nakatosa e la butta dentro incredibile il portiere immobile che gol Bonucci ancora intervento con la X quello l'R1 i micro movements di Timo Verna che va via tutti molto molto fluido Timo Verna quindi recap di questi giocatori che abbiamo provato grazie a D.P. Scuola Foot Universe ma anche la strada e tra l'altro curiosità shocking il video della canzone Bambola è stato girato a casa di ADV una notizia sconvolgente che vi cambierà la vita ma che dovevo darvi l'ho appreso quest'oggi mi ha mandato pure le foto partiamo da Bonucci onesto giocatore costa poco molto fisico anche automatico negli interventi c'è anche i piedi buoni quando dovete passare la palla molto bene però io ho riscontrato una notevole pesantezza negli spostamenti e nell'accelerazione quando vi partono contro i giocatori più sprint bustanti e fast quindi sappiate che questo giocatore vi piacerà se lasciate molto la difesa in mano alla CPU ma tenderete ad odiarlo nel momento in cui uscite a 1000 a cannone con L2 R2 e compagnie però vale i crediti che lo pagate difficile da linkare solo se siete fanboy io lo utilizzerei onestamente come si è inteso un'ombretta come voto per me lui è un 6,5 un po' troppo pesante ahimè Mendy allora lui lo volevo comprare tempo fa quando avevo Bellingham altri giocatori del Real Madrid o che comunque me linkava però costava 100.000 crediti adesso non è che costi molto meno però dicevano 82 questo crollera di prezzo ahimè è proprio forte cioè ok non è sicuramente un giocatore full automatico però quella rapidità sia quando difendete sia quando portate palla e attaccate quella fisicità quando andate a spostare l'avversario e tutto quanto lo apprezzerete tantissimo in un gioco dove i terzini perlomeno in questa fase iniziale del gioco soprattutto uomini non è che chissà che cosa ci sia quindi questo è sicuramente uno dei migliori terzini che ho provato prima da un metro e ottanta 4 o 5 cioè vale sicuramente tutti quei crediti ripeto è abbastanza cioè parecchio manuale d'altra parte le stats parlano chiaro però è tanta roba nel complesso come si è intesa gli abbiamo applicato un'ancoretta come vuoto per me questo è un 7,5 pieno ed è tanto per questi tempi per un terzino con stats difensive così basse Donio Rudiga allora lui ha delle stats diciamo simili a Bonucci se vogliamo c'è anche più forza però ecco in game questo vi darà una maggiore sensazione di rapidità oltre che di maggiore proprio sicurezza sia quando lo muovete lo fate muovere in mano alla cpu che voi con i vari L2 R2 KX e compagna bene questo è veramente strong ma non so attualmente quanto costa però se la domanda è meglio lui a Bonucci vi dico subito meglio lui costicchia però li vale tutti per una liga ci sta la grande se lo riuscite a linkare molto molto automatico e ripeto rapidissimo a campo aperto e un pochettino anche nei primi metri si alto alto non si è senduto proprio onesto quindi non è assolutamente un problema il work come si era intesa una ombretta come voto per me lui è un 7 e mezzo anche lui gran bel giocatore trippia ah beh questo porello l'abbiamo messo per l'inca questo avevamo nel club eccetera onesto qualche intervento lo fa però capite che un terzino di un metro e 73 con 3-4 con 75 di accelerazione e 66 di velocità scatto non può circolare anche perché può fare solo quel ruolo se ci fosse stata la possibilità di fargli fare il cdc sai qualche altra cosa aveva pure un mezzo senso ma così anche se fa begli interventi perché le stats difensive sono alte per essere un terzino mai nella vita mai nella vita troppo lento troppo troppo lento un body type non all'altezza come si è interessa gli avrei applicato un catalizzatore ma vabbè qui ci vorrebbe un ombre in teoria ma come vuoto per me lui è a 1-5 non può circolare cioè un terzino con queste stats parliamo di DAB questo al momento vi dico che è uno dei giocatori con più sprint boost L1 corsa che ho provato finora prende veramente una grande velocità nei primi metri è che è lungo bene bene regicchia tutto sommato anche di fisico nonostante la forza sia bassissima però sta proprio piantato a terra con quell'equilibrio e tutto quanto il problema è che questo tiene le priere proprio a X cioè 3 di piede debole 80 di finalizzazione 73 potenza tiro 72 passaggi lunghi quindi intanto dovete fare bene attenzione a non usare il piede debole che quest'anno si sente ancora di più e soprattutto non dovete esagerare lui è da mettere per me sulla sinistra manco sulla destra perché è mancino e tirarci dritto per dritto a suon di sprint boost e di dribbling nello stretto con l'R1 in quello è il top assoluto da esterno è uno dei più forti come ti rientresa gli abbiamo applicato un falchetto come voto per me questo merita un po' ripeto da esterno non mi fate in mente di far rifare l'attaccante è un bel 7,5 anche lui tanta roba da esterno gabriel jesus ma boh chist onest 4-3 pure lui l'accelerazione c'è gli sprint boost così così la finalizzazione molto bene meno i passaggi e poi l'agilità è la solita di gabriel jesus sempre molto piantata a terra equilibrio un'ottima reattività e compagnia bene quindi giocatore con cui non potete pensare di fare ignorantate dritto per dritto ma dovete metterlo possibilmente in un attacco a due e fargli fare il finalizzatore per me che sta da fare su gabriel jesus però con tutti i limiti che può avere anche considerando il 3 di piede deboli comunque un costo onesto come sintesi abbiamo messo un cacciatore come voto per me lui è un 6 buon player ma niente di eccezionale burner evoluto allora un metro e ottanta bel body type 3 5 partiamo col dire che con l'r1 il dribbling con l'r1 è estremamente sgusciante e rapido sembra quasi avere dei tratti tipici dei vari player che sono sgravati con l'r1 tipo mess e compagnia bella non li ha però nonostante ciò va via che è una meraviglia con quella tecnica di dribbling dimostra per me in game molta più agilità di quello che ci dice la carta perché si gira veramente bene la velocità non vi lasciate ingannare per me un ansufati ma anche un di ab dimostrano in game più velocità di lui però è sufficiente la più grande pecca per me di questa carta è l'essere stand sotto porta questo tanto ti tira giù la porta tanto sbaglia un gol clamoroso tipico di chi comunque chi ha la finalizzazione al di sotto dell'85 per me però è compresso un bel giocatore probabilmente non sbloccherei lui sbloccherei più Nunez probabilmente però sappiate che questo è un buon player come si intesa gli abbiamo applicato un finalizzatore come voto gli do un 6 virgola 5 valverde gran centrocampista questo probabilmente uno dei migliori provati finora onesto stamme livelli bellingham se non superiore in game veramente un giocatore eccezionale molto presente in game alto alto 3 4 sta tutto par le stats difensive si non saranno le più impressionanti ma di sti tempi sono tanta roba anche un'ottima aggressività 80 di forza come vedete è molto equilibrato come play quelle stats di accelerazione veloci da scatto non vi lasciate rare in inganno perché comunque avendo un 83 di dribbling 77 di agilità e 68 di equilibrio ci potete tirare solo dritto non vi potete mettere a fare chissà cosa con questo palla al piede e per lo più i passaggi sono veramente top giocatore che vale i crediti che lo andate a pagare assolutamente come stile intesa gli abbiamo applicato un'ancoretta come voto a questo valverde da un 8 e mezzo ovviamente un 8 e mezzo per i giocatori di questo primo per questa prima settimana di fifa poi è normale che questo tra un mese non sarà più di certo un 8 e mezzo che subentreranno tante carte superiori però attualmente è veramente stra forte parliamo di ansufati gran sorpresa io questo se non l'avessi provato da dv non l'avrei mai sbloccato ma mo che finisco di sbloccarmi quel turam corro a sbloccarmelo questo è clamoroso ovviamente giocatore da mettere possibilmente largo 4-4 1 metro e 78 ma in game sembra pure più alto proprio slanciato ma quello che impressiona è la rapidità d'esecuzione la fluidità di corsa perché quelle stazze le dimostra tutte se fate caso ha anche una buona finalizzazione quindi volendo lo potete mettere pure in un attacco a 2 ma sarebbe non spreco perché questo largo va a 1000 è uno dei più veloci che ho provato nell'ultimo periodo se la cava discretamente anche quei passaggi grandi stazze di dribbling eccetera però quello che c'è da sapere è che questa evoluzione è tra gli esterni più veloci provati finora e ne ho provati tanti come stile intesa gli abbiamo applicato un falchetto come voto per me lui è un 8,5 un esterno pazzesco lo stiamo valutando per quello che è il suo ruolo attaccante eviterei anche se lo può fare in quel caso non sarebbe un attaccante da un 8 e mezzo da un 7 però ve lo straconsiglio se fate fatica ad andare via agli avversari sulle fasce perché sembra che nessuno cora per sfizio voglio vedere che ah ok e infine guimarash la sbc che abbiamo testato grazie ad adb 3-3 alto alto 1,82 un giocatore estremamente lento in my opinion palla al piede si sente proprio a sapere si sente anche con la r1 si compensa discretamente ma palla al piede sentite proprio un giocatore pesante sia per la velocità accelerazione che per quella gita i passaggi sono clamorosi gli automatismi molto buoni però per dirvi se pensate di ritrovarvi uno che interviene tanto quanto un valverde sappiate che non è così è meno presente in game nonostante le ottime stats quindi che cosa vi ritrovate un giocatore un po' pesante sia palla al piede che senza molto automatico però diciamo non stra presente in game questo deve fare il cdc cc ha un body type buono ma non è un gigante qui morale della favola buon player ma per me non ne vale mai la pena sbloccare una carta del genere anche perché c'è per farvi capire quel joelent si ok questo si può appare bla 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 ma c'è quel joelent a 4000 crediti che worka come questo cioè praticamente wow ok quello non sa ma se anche questo dovesse apparsi io faccio fatica a credere che questa carta possa diventare chissà cosa quindi sono crediti che dovete evitare assolutamente di spendere ma tutta la vita bellingham al posto suo comunque un buon player che fa il suo compitino ma costa troppo come sentenza gli abbiamo applicato un'ombretta come voto per me lui è un 7 meno però ripeto non lo sbloccate perché questa è una carta la classica carta me che dura manco 10 giorni poi esce di meglio oppure vi scocciate e tutto quanto non lo sbloccate detto ciò io vi ringrazio per aver visto questo video ringraziamo nuovamente adb per averci fatto testare tutti questi giocatori in particolar modo la sbc fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo play di cui volete riuscito a prossimo io comunque onesto le evoluzioni e potevano fare meglio non si capisce manco cazzo che l'evoluzione va Grazie a tutti.